Insomma lasciamo perdere, ci sarebbe da dirne. Però, tre filetti, venga un po' con me. Sì. Perché, indipendentemente, allora, il camionista dice io la prendo, ci metto sopra i costi di trasporto e dopodiché la consegno. E quando arrivo a consegnarla, costa ancora poco? Sì, costa ancora poco. Allora, chi è che ci gioca? Allora, innanzitutto cominciamo a dire che questo è un male endemico del nostro paese, quello di avere... Faccio le carote, tanto bene. 10 centesimi le carote al campo e poi arrivano al mercato a un euro e pasta. Quindi 10 volte di più. Questo è per i vari passaggi di filiera. Ho detto le carote per dire tutti i prodotti, purtroppo, hanno questa caratteristica di avere dei moltiplicatori di 5-6%. Senta, ma le mela costano 1,99 di media. Quanto costa la mela all'inizio? Ah, beh, la mela all'inizio può costare, diciamo così, 0,20, 0,30. Beh, aumenta un bel po'. Aumenta di 5-6 volte. Allora, il moltiplicatore è quello. Questi prezzi differenziati sono dovuti alla questione che stiamo discutendo stasera. E cioè, tutti dicono l'IVA, l'IVA aumenta dal 21 al 22. Non dovrebbe centrare nulla, no? La mela. Perché questi sono prodotti al 4%. È là che centra. È qui cascala. Perché se aumenta l'IVA dal 21 al 22 incide anche sui prodotti che hanno... Per due motivazioni di fondo. La prima è stata detta anche nel servizio. Comunque i costi di trasporto. Perché i costi di trasporto incidono sempre. Le mele da sole non hanno i piedini e vengono da tre filetti se vuol mangiarsi una mela. No, bisogna trasportarla. C'è il carburante. Passerà dal 21... Passerà. Io dico che non deve passare. Passerà. Ma ipoteticamente può passare dal 21 al 22% e quindi c'è una ricaduta per i costi di trasporto. Allora, vediamo un attimo questi costi. Qui abbiamo il limone. Ma per capire meglio è che c'è poi anche l'arrotondamento. Che vuol dire? Perché succede che quando scattano dei meccanismi anche di solo di 1 o 2 centesimi, chissà perché, tutti i paesi vengono assolutamente arrotondati. Allora, 1,10 i limoni. 1,10 i limoni. Andiamo a vedere quanto costeranno dopo. Costeranno i limoni 1,15. E uno dice, va bene, ma per 5 centesimi. E no, perché non è che uno vive a limoni. Uno vive di tante cose. Vediamo qualcos'altro. Le zucchine 2,40. Vediamo quanto vanno. Lo faccio a lei. Dopo l'aumento dell'IVA 2,45. Ecco, anche qui. Allora, cosa significa? Uno dice, ma sono solo 5 centesimi. Però, se noi sommiamo di tutti i prodotti che servono per vivere, per sopravvivere, per alimentarci, anche se anche in questo caso l'alimentazione sta scendendo come quantità di comprato. Non ci sono più soldi. Non avete fatto bene nel supermercato. Effettivamente, non solo si cambia dalla carne si va al pollo. Vediamo le patate. Perché questa qui è una delle poche cose che ancora si comprano. 1,20. 1,20. Eccolo qua, le patate 1,20. Anche qui sembrano... Vedi un po'... Sono aumenti che sembrano... 1,25. Ma sembrano marginali. Ma se facciamo la somma, siccome le spese sono... Si fermi lì, tre filetti, così... Ma la somma totale... Beh, viene una ricarica sulla famiglia di 207 euro all'anno e con i tempi che corrono, con il potere d'acquisto delle famiglie che già è ridotto ai minimi termini, questo sarà un ulteriore aggravio, ci sarà un'ulteriore contrazione dei consumi. Quindi, 200 euro da questo aumento verrebbero. Sulle tariffe luce, acqua e gas, grosso modo quest'anno quanto pagano in più le famiglie? Noi abbiamo solamente un pizzico di fortuna quest'anno perché con un nuovo conteggio sul gas ci sarà una diminuzione delle bolle. Dobbiamo dire la verità. Ma grosso modo le tariffe quanto sono aumentate quest'anno? Quanto gravano sulle famiglie? Allora, le tariffe aumentano sull'acqua e sui rifiuti. Sarà una batosta, la tares, di 60 euro in più all'anno. Sì, siamo a 260. Mentre invece una riduzione per quanto riguarda il gas non dobbiamo dire di attorno 25 euro all'anno. Essendo la canna del gas l'hanno un po' specifico. Esattamente, questa è una buona battuta. D'accordo. La follia è la follia. Il nostro Teo Geller è andato... Giorgio Geller è andato...